Luca Sanzi, rimanendo il tema di sostenibilità e la vicinità che hanno una casa più vicina che rimane in precedenza, Giacomo Stefani della PIAB, svelaci un po' cos'è la PIAB e quanto è pertinente il vostro lavoro qui, cioè il vostro lavoro, quello che vuoi propugnare questa sera intanto non riuscirò a parlare senza intenzionare un piano di passione fondamentale per lui un po' più della PIAB intanto, cosa siamo? La PIAB è una federazione di associazioni, di associazioni ambientaliste che propongono la bicicletta come strumento di movimenta urbana siamo 140 associazioni in tutta Italia e abbiamo 16 mesi e ci occupiamo sia di cicatriismo e quindi anche di questi casi popolini legati a persone di 15 città come ha detto prima, Firenze non ha una federazione di conquista città e non ha un vicinale che sarebbe un documento di lega delle intenzioni legate al PIAB, a PIAB, per rendere noi abbiamo un'idea di 160 gatti per organizzare una popolità città in una città e a me sta piacere essere stasera perché negli ultimi anni la bicicletta, il muso della bicicletta come in città sta avendo veramente un... non è proprio nel ultimo anno, nel ultimo anno sono veramente tanti ispiritti e registriamo veramente con gioia le persone che iniziano a muovere se non ci sono anche un bisogno, certamente economico, ma credo io che sia impossibile iniziare a usare la bicicletta senza iniziare a pregiungere perché è una città da un'esperienza nel posto di tutti i nuovi che la macchina è una macchina risposta da un punto a un altro, invece di una bicicletta di nuovi e quindi da altre emozioni che non sono paragonabili a nessun altro modo di spostarsi quindi mi fa piacere essere qui e passo parola con lei sono un po' contento grazie